Ciao a tutti ragazzi sono Jack99 e benvenuti in questo nuovo video Oggi andiamo a fare la challenge di lo tieni o lo butti Buona visione Bene ragazzi sono Jack99 e oggi sono in compagnia di Nunzio che farà la challenge con me Vi spiegherò brevemente la challenge di oggi Consiste nel prendere 6 oggetti che Nunzio ha preso per me e io ho preso per lui Ovviamente non sappiamo gli oggetti perché lui li ha presi separati e io li ho presi separati per lui Io li ho messi qua e lui li ha messi in un zaino a parte Iniziamo, lui deve dire 3 volte di sì e 3 volte di no Cioè 3 volte lo tiene l'oggetto e 3 volte lo butta Ovviamente l'oggetto buttato ovviamente non sarà più recuperato Quindi iniziamo con te? Sì Bene prendiamo la benda Guarda qua Bene io ora lo venderò perché lui non dovrà vedere l'oggetto Ne caccerò uno alla volta, ne sono 6 Bene Bene, vedi qualcosa? No Bene Allora iniziamo con il primo oggetto Lo tieni o lo butti? Lo tengo Bene Bene, guarda che cos'era? Ah lo tengo Bene Il primo oggetto raga l'ha tenuto Pena di nuovo Diciamo era prezioso per te secondo? Va bene Ragazzi questo è il secondo oggetto Secondo voi lo terrà o lo butterà? Lo tieni o lo butti? Lo tengo Sì Eh? Felice eh? L'hai avuta bene È andata bene Bene ragazzi Prendo il terzo oggetto Ha detto due volte sì Quindi ora Ha l'ultima possibilità per dire sì Guardate bene che cos'è Lo tieni o lo butti? Lo butto Guarda Che cos'era? Lo butto Bene Si vede che non gli piaceva Lo butto Aspetta lo mettiamo nel cestino Ecco qua Quindi Hai usato il primo no Prendo il quarto oggetto Lo tieni o lo butti? Lo tengo Guarda che cos'era? Sì lo tengo Una cassa prodotta raga Quindi pensate quando ci teneva tantissimo Bene Quindi hai usato i sì Quindi da adesso in poi Devo dire no Devo dire due volte di no Sì esatto Proprio così Bene Io e la domanda lo faccio lo stesso Lo tieni o lo butti? Lo butto Bene Guarda cos'era Non ci stai nevicando Non è amante di Dragon Ball L'ora Quindi Lo buttiamo Ecco qua Adesso l'ultimo oggetto Lo tieni o lo butti? Lo butto Lo butto Guarda cos'era Bene Lo volevi tenere Questo qua Lo volevo tenere Mi dispiace Purtroppo lo dobbiamo buttare La cassa Bene ragazzi Il primo oggetto a cui ci temo davvero Lo dobbiamo buttare Purtroppo Ma la torta la vabbè Sì sì Ragazzi io ho finito gli oggetti Quindi adesso Tocca a me Quale è la challenge Ovviamente non mi riprenderà E mi casserà gli oggetti Spero che Dio me la mandi pure Mi metto io dall'altro ruoto Qua Bene Aspettami Ci vedi già? Sì sì No Non giù C'è Non so Se non ci rispondi Lo tieni Aspetta Prova a fare qualche numero Giusto per Vedi? No Le tieni o le butti? Ehm Lo butto? Le due scarpette Wow no Aspetta Dobbiamo buttare Wow non ci credo Necessimo Ragazzi ha buttato le mie scarpette Non ci credo Bene Sono pronto Lo tieni o lo butti? Ehm Lo tengo E vai I guantoni Sì Sì I guantoni Bene Ho detto una volta sì Una volta roccius Una volta no La tieni o la butti? Ehm La tengo Ok La maglia del nago Wow bello Beh devo dire che la selezione di allenamenti molto Che ci tengo molto Sì Lo tieni o lo butti? Ehm Lo butto Il tuo nintendo Wow no Ragazzi è un bastardo Se si può dire Non si fanno queste cose Non buttiamo Non si fanno queste cose No La tieni o la butti? Ehm La butto Da che cos'è? Una pinna Bene dai Questa volta sono andato bene La buttiamo Sì Quante volte ho detto sì Ehm Due Due Sì Il no Sempre due Sì La tieni o la butti? Ehm Non so La butto Quanto? Ma vabbè dai Era la tre o due Quindi Sare la tre o la quattro La buttiamo Sì la buttiamo Tanto Ehm Sei finito anche tu Ciao Sono finiti gli oggetti? Sì Va bene Bene ragazzi Ehm Questa challenge Si conclude qui Ehm Noi vi salutiamo E ci vediamo Al prossimo video Se il video vi è piaciuto Lasciate un like E commentate Mi raccomando Alla prossima raga Ciao Ciao Alla prossima raga Ciao Ciao 1 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.